La poesia si intitola Sala Chimi Non voglio mancare di rispetto a nessuno Ogni persona ha le sue strade, i suoi problemi, le sue soluzioni, le sue non soluzioni Ma quando vado in posti dove ci sono i poeti, adulti, seri, che parlano annuendo della critica e dell'editoria Mi prendono certe malinconie Infatti è molto raro che io ci vada Uno mi ha chiesto Hai avuto buone recensioni? L'ho guardato impaurito Avrei voluto forse dirgli che certe mie poesie sono piaciute a Clara, a Federica, a Grazia, a Romina, a Claudia, a Eva E che cosa puoi pensare di meglio per una poesia? Ma non ho detto nulla Lui mi ha chiesto se tutto libri... No, tutto libri no Ho alzato le spalle C'erano dei salatini niente male Di quelle pasticcerie le costano care Ne ho mangiati sei o sette Il giorno che dovesse importarmi più tutto libri che una ragazza Uccidetemi E bruciate le mie poesie Tanto sarà vero Ho a dare Grazie 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 Grazie.